buongiorno benvenuti domenico modugno perché oggi facciamo il menù sanremo quello proprio da gustare davanti alla televisione mentre si guarda il festival mentre si o si guarda anche qualcos'altro noi lo abbiamo attualizzato però l'idea di spizzicare davanti alla televisione delle cose molto buone che non sgocciolino troppo che non si debbano tagliare troppo quindi comode da gustare senza un tavolo e senza le posate partiamo con la sardenaira che è la pizza tipica di sanremo io poi ho vissuto tutta la mia infanzia in vacanza tra sanremo ospedaletti quindi ne so qualcosa poi facciamo le melanzane in carrozza che sono un'alternativa alla classica mozzarella in carrozza fritta molto buona ali di pollo speciali una glassata un po dolcina una semplicemente impanata a mangiare così poi facciamo mini cheesecake molto buone e le facciamo con paola e chiara che ci racconteranno anche un po di retroscena dei tanti sanremo che hanno fatto per le paste veloci trofie al pesto e sogliola quindi un altro tributo alla liguria in particolare a sanremo e allora mettiamoci a cucinare quanto è buona la sardenara noi la chiamiamo sardenara a ospedaletti a sanremo si chiama sardenaira sono quei tre chilometri di differenza di distanza tra sanremo e ospedaletti che già in italia fanno cambiare una ricetta o perlomeno il nome di una ricetta questa è una pizza con l'impasto della pizza ma il sugo che si mette sopra è un sugo molto cotto saporito e intenso si mangia poi a quadrotti quindi partiamo col fare questo sugo rosso bello ricco con due o tre spicchiettini d'aglio così mettiamo anche qualche acciughina uno due faccio sciogliere un secondo ok quando l'acciuga si è ben ben sciolta aggiungiamo la cipolla tagliata pezzettini questo era proprio il classico pranzo di quando mi fermavo in spiaggia non tornavo a casa in spiaggia da ragazzina in spiaggia c'era il bar che aveva la sardenara o la focaccia di cipolle quelle tipi ma la sardenara era proprio stra buona qui io da bambina toglievo l'acciuga e anche l'oliva poi quando sono diventata grande invece ho imparato ad apprezzarla quando la cipolla è ben appassita 700 grammi di passata o anche di polpa di pomodoro come volete un po' di sale naturalmente ricordatevi però che c'è l'acciuga quindi è già abbastanza salata qui metto il coperchio e faccio cuocere una mezz'ora il sugo deve essere molto ristretto intanto che il sugo va noi facciamo la pasta della pizza se questo passaggio voi non lo volete fare prendete un bel panetto di pizza quello del panettiere lo fate lievitare bene poi lo stendete quindi avete velocizzato le cose alla fine è solo il sugo quello che dovete fare noi invece oggi facciamo anche la pizza proprio dunque sono 500 grammi di farina invece del panetto di lievito io in questo caso ho la bustina di lievito che gli ho filizzato ma comunque è la stessa cosa zucchero che serve sempre una presa di zucchero per aiutare il lievito mettiamo un po' d'acqua calda anche un pochino di latte ci sta bene così iniziamo a dare una mescolata naturalmente bisogna mettere tanta acqua quanto basta per creare un impasto bisogna andare un po' a occhio ho ancora un goccino di latte che ci sta bene e naturalmente il sale metto un mezzo cucchiaio ok adesso continuiamo a mettere ancora un pochino di acqua allora per far partire la lievitazione bisogna lavorarla un pochino così io mi diverto a impastare proprio ok più o meno così quando l'impasto è ben liscio lo lavorate questi bei dieci minuti poi lo mettete in una ciotola boing così lo coprite con un canovaccio e lo fate lievitare fino a che non è venuto bello ciccio il risultato è questo eccolo qua allora noi stendiamo il nostro impasto com'è bello caldo un po' poi l'ideale sarebbe tirarlo un po' così con le mani poi lasciarlo riposare ancora una ventina di minuti e poi finire di tirarlo perché la pasta torna sempre un po' indietro quando cercate di lavorarla se invece la lasciate un po' lì però ce la possiamo fare questa è una pizza abbastanza alta non sottile ecco qua beh direi che si stende proprio bene molto soddisfatta ok mettiamo il sugo questo quello che ho fatto prima è molto più ristretto è quello giusto gli spicchiettini d'aglio non voglio romperli perché sono proprio tipici della sardenara bisogna rimetterli li metto dopo prima stendo bene la pizza così ok poi ci mettiamo sopra ancora qualche acciughina vedete che ha poco bordo la sardenara praticamente non ne ha ed è strasugosa quindi mettiamo due pezzetti e tre di acciughina perché tagliata a metà si può mettere un po' grande qualche oliva e i due pezzettini d'aglio che abbiamo tolto che la sardenara ci stanno ok questo cuoce 15 minuti dipende poi anche un po' dal vostro forno ventilato ventilato circa a 200 gradi bella la mia sardenara buona la pizza mi chiama arrivo arrivo ecco qui fatta in casa non è mai proprio uguale a quella che si mangia così nei bar della Liguria però secondo me ci assomiglia parecchio la sardenara o sardenaira come volete è più antica della pizza è nata prima della pizza è nata addirittura nel 1400 quando non avendo ancora scoperto l'America noi ancora non conoscevamo i pomodori quindi il pomodoro poi è stato messo dopo pensate pensate che piatto antico potete mettere poi anche i capperi per esempio che stanno bene però buone buone ok ancora fumante chissà se Paola e Chiara a Sanremo l'hanno mangiata la sardenara andiamoglielo a chiedere ho messo a rosolare l'aglio nell'olio ho aggiunto le acciughe la cipolla ho fatto rosolare bene poi ho messo il pomodoro e ho fatto cuocere per la pasta ho aggiunto il lievito alla farina ho unito zucchero latte, acqua un po' di sale e ho impastato bene ho fatto lievitare l'impasto coperto ho steso l'impasto nella teglia da forno schiacciando bene ho messo il sugo sull'impasto ho aggiunto le olive le acciughe e i pezzetti d'aglio ho messo in forno 15 minuti a 200 gradi già sentite la musica quindi avete già capito chi arriva Paola e Chiara che bello grazie mille grazie a te questo è per te prego grazie aspetta andiamo a aprirlo in cucina venite vi faccio strada cosa sarà mai cosa potrà mai essere tutto bene 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 tutto a posto stasera ci tenevamo molto a venire qua vedevamo tutti che venivano e noi no ma come mi aspettavo il menu festival allora apriamo apriamo un po' è una cosina è un pensierino è un pensierino bellissimo ha due pensierini allora aspetta questo è un cd vostro questo qua è il cd di festival però in versione inglese e quindi sarà anche più international esatto una vera chicca che in inglese si chiamava heart beating e il testo l'aveva scritto quello che ha scritto like a virgin di madonna però è un signore molto in gamba ma che belle sono palo e chiara grazie qua eravamo a rio de janeiro meraviglia infatti c'è anche una tintarella che allora questo lo mettiamo qua in esposizione e questo che cos'è un pezzato di cioccolato quello no è uno specchio uno specchio una cosa un po' femminile ma dai con cioccolato ma dai ma che forte beh questo è perfetto per me adesso il mio figlio se lo vede nella borsa tenterà di mangiarla no perché vi manderò il conto del ventista allora parliamo di cose serie di cucina ecco voi siete venute qui per fare il cheesecake esatto allora io io dirigo e voi lavorate va bene allora mettere la spina nella presa la presa asciutto va bene allora come prima cosa facciamo la base di biscotto quindi ci vogliono i biscotti ci vogliono i biscotti io uso le digestive perché sono le mie preferite sono buone voglio un po' spezzettarli andiamo sono esattamente 100 grammi sì 80 grammi di burro prego ma voi che così cantate componete insieme nella vita poi tutti i giorni dite ma e basta adesso ce ne stiamo per lì a fare no se lo fate tante cose insieme ma dipende dai momenti a volte forse qualche anno fa di più adesso ognuna che ha la propria sì che loro assomigliano alle mie bambine una bionda e una mora speriamo vengano belle e brave come voi e allora ma dovresti parlare con la nostra mamma ogni tanto noi se in televisore mostriamo sempre il lato migliore giusto è vero ok allora io sto coso l'avrò chiuso non è che parte tutto vediamo no si l'hai chiusa vai schiaccia no dove sei qua ah è questo vediamo è molto pastoso eh sì è bello ma secondo me va bene dai senti ma raccontatemi un po' di Sanremo per gli artisti è un po' un amore e odio nel senso che è bello è un bello posto eh beh poi noi siamo particolarmente affezionati perché San Nati eh vi ha lanciato qual'era la canzone Amici come prima Amici come prima che bello mi costa una fortuna no lì ci ha portato veramente molta fortuna no poi è stato bello perché l'avevamo scritto era il nostro primo disco tutto scritto da noi molti non lo sanno no pensano che noi siamo no no è vero che noi noi non siamo mai andati a scuola per scrivere canzoni no poi abbiamo imparato viaggiando e con forse è la cosa migliore il desiderio di scrivere ci ha portato poi a trovare un nostro stile ecco e quindi è bellissimo essere là perché c'è un'atmosfera che ti contagia è come se fosse una festa che dura una settimana in realtà anche un po' di più perché si va lì un po' prima si fa le prove a Roma eccetera e mi ricordo la prima volta che siamo andate a provare io avevo il cuorettino non riuscivo ho detto adesso perché poi non vuoi sbagliare vai lì hai soltanto una prova o due beh ma se è così ti senti bene sì e quando arrivi sul palco dell'Ariston io sai che ci penso quando sono a casa dico ma io morirei pronti per la farcia? eccola buona allora qui ci vuole panna 150 ml buttiamo dentro butta formaggio fresco spalmabile 100 grammi 3 cucchiai di zucchero che profumo vero buono la vanillina l'uovo anche va bene secondo te basta sì perché non deve neanche montare molto troppo ok allora versate voi se viene giusto un pochino per uno ecco perfetto ah aspetta che vi ho messo qualcosa di familiare eh sì eh house familiar diciamo certo bella anche questa proprio cioè questa qua è un po' stata è un po' stata un pezzo di un di rinascita per noi perché poi chi fa il nostro mestiere ha un po' dei momenti di up and down no? sì perché questo pezzo è stato un pezzo importante per noi perché arrivavamo da un insuccesso di un disco andato non bene ed eravamo un po' così fuori rotta certo non sapevamo esattamente che strada prendere e siamo ricordo che sono state da un amico che è Cecchetto ah ecco e lui ci ha dato una bella ah sì gli ha dato una scossola ogni tanto ci piace andarlo a trovare chiedergli anche dei consigli lui veramente sì è stato uno delle poche persone che ci ha parlato in modo molto onesti sincero schietto quindi vi è servito ci ha dato una bella una bella scossa perché noi eravamo un po' addormentate e noi siamo uscite da lì un po' un po' così abbattute poi la sera ci è venuta una cattiveria vedi che bello e da lì è nata questa canzone e da lì siamo ripartite ci siamo rimessi a scrivere ci siamo andati a partite per un viaggio ci siamo rimessi a scrivere ed è stato vi ha ritrovato la grinta che ci vuole quella per scrivere cose nuove ed è stato molto bello è mica facile fare l'artista perché devi anche cambiare devi anche stupire accidenti ti diamo una mano è meglio fare i cheesecake è molto più semplice ragazzi ve lo dico io no no guarda che anche io credo che ogni mestiere fatto con passione abbia i suoi diciamo momenti di alti e bassi e bisogna sempre ritovarsi senti attenzione però è 150 gradi una ventina di minuti non deve cuocere troppo forte perché sennò si gonfia poi si rompe e si brucia anche un po' speruma bene speruma bene speruma bene anche la nostra mamma dice speruma bene no lei dice speruma bene ragazzi topping mirtilli la cheesecake è calorica però i mirtilli sono anticellulite è vero fanno benissimo metti un po' in padella chiara tutti tutti allora il topping si butta tutto insieme 450 grammi di mirtilli 80 grammi di zucchero mettiamo questo qua poi 10 grammi di burro io farei così secondo me sono più o meno 10 grammi vabbè esageriamo il limone una spremutina di limone tu puoi già incominciare a accendere allora il fuoco deve essere vivo ma si è bello vivace hai una palettina certo cara vai vai e questi li facciamo rompere un po' questa è ricetta di Paolo il nostro autore che è bravissimo a fare i dolci soprattutto che noi lo sentiamo sempre su facebook e si infatti perché lui è un vostro grandissimo ammiratore la maizena insieme qui bisogna tenere il fuoco alto finché non diventa una cremina e poi siamo a posto bene allora io direi che questa è pronta noi naturalmente le nostre cheesecake ci mettono un bel po' ma io le ho preparate già ok ecco tu allora facciamo così prima le sformiamo sì che dovrebbe essere abbastanza facile le ultime parole famose vediamo guarda forse chiedi ok guardate come sono belli sono belle direi che ma come siete state brave direi che se non ci fosse stata benedetta sarebbe stato molto difficile questo è particolarmente sereno questo è perfetto il cestino è perfetto perché sono belle con le cornicette intorno sì sì io non so neanche più se metterci qualcosa che bella che quasi quasi manierei che dici no io non ci metterei più niente ma a me piacciono così devo dire sono belline diciamo tipo per schiarire un po' i bordi magari quello sì ecco quello mi piace ecco questo è il tocco di chi sai che poi rimane solo sul bordo perché il dentro naturalmente si scioglie sì perché tanto il dentro si scioglie perché è caldo che bella io metto zucchero a velo ovunico perché nobilita subito copre le magagne allora vedi che rimane anche sopra da un po' di luce pure sì anche sopra può stare sì sì fa subito festa bello bello ed è subito festa ed è subito festa vamos a bailar un po' come fa la Chiara è subito festa bello bello perfetto ok allora ragazze portateli voi sulla nostra console qua ecco ci volevo anche la musica giusta ma faccia pure ecco perfetto belli no si presentano bellissime d'ora in poi quando dovete fare un dolce puntate su questo e puntate su questo sbagliato esatto senti grazie mille davvero per aver cucinato con noi insomma è una versione inedita sì ma molto carina di Paola e Pia grazie grazie mille per la base abbiamo tritato i biscotti con il burro fuso abbiamo imburrato i pirottini li abbiamo foderati con l'impasto di biscotti per la farcia abbiamo frullato la panna con il formaggio lo zucchero la vanillina e abbiamo unito l'uovo abbiamo frullato ancora poi abbiamo riempito per tre quarti i gusci di biscotto abbiamo infornato a 150 gradi per circa 20 minuti per il topping abbiamo messo in padella i mirtilli con 80 grammi di zucchero 10 grammi di burro il limone e la mainzena abbiamo fatto cuocere qualche minuto schiacciando un po' i mirtilli abbiamo sformato i cheesecake li abbiamo fatti raffreddare li abbiamo guarniti con tanta salsa ai mirtilli caro massimo sei pronto ad allestire il palco dell'ariston tranquillamente di fiori il sogno di chiunque esatto esatto perché noi oggi questa tavola che è un buffet la faremo diventare il palco dell'ariston così qui sono piatti messi in quest'ordine uno grande, uno piccolo uno grande, uno piccolo basta spostarli così allora qui c'è la scalinata adesso addobbiamo bene il palcoscenico dietro quelli un po' più grandi poi mettiamo le posate e adesso però ragazzi manca il cantante anzi la cantante mettiamo Chiara che Paola deve ancora entrare ecco qui lei è pronta per esibirsi però mancano i fiori siamo a Sanremo arrivano le fiori anziché una bordura eccetera andiamo a fare un microfono di fiori forte e il nostro microfono di fiore fatto arrivo dal teatro Ariston scritto da Massimo Sandrini canta Benedetta Parodi che emozione io sarei svenuto mettiamo il nostro microfono esattamente dietro la scalinata belli come stanno bene ecco qua così fungono anche da quinta giusto i fiori avanzati li prendiamo e li metterei davanti che fuoriescono praticamente dai tuoi bicchieri ecco qua bello mi piace un sacco grazie mille Massimo io adesso faccio le melanzane in carrozza però sempre per il nostro buffet mi vado a preparare ci vediamo tra un attimo melanzane in carrozza che sono un po' come le mozzarella ma al posto del pane appunto c'è la bella fettona di melanzana che è veramente golosa come prima cosa facciamo partire l'olio che deve scaldarsi bene una ricetta molto simile a questa adesso io oggi ho portato qualche variante la faceva la mia nonna e poi anche la mia anzi la mia mamma me l'ha fatta ben poco la faceva più spesso la mia nonna però noi mettevamo la fontina invece della mozzarella perché poi ognuno usa le materie prime che sono tipiche della propria zona allora prendiamo queste melanzane o non c'è più bisogno oramai di farle di metterle sotto sale tutte queste cose qui perché queste melanzane soprattutto se le friggete subito le cuocete subito non è che siano amare se le lasciate troppo tempo lì magari allora io le taglio abbastanza sottili facciamo dei sandwich praticamente con due fette di melanzana in uno mettiamo un po' di prosciutto e un pezzettino di mozzarella e chiudiamo per esempio nell'altra invece possiamo mettere la mozzarella e l'acciuga che è la mia preferita facciamone qualcun'altra io non abbondo mai troppo con la mozzarella perché poi ho paura che mi si sciolga in frittura come entra in frigo e diventa un disastro però insomma vedete voi qui in realtà bisogna friggerne una marea per soddisfare tutti gli spettatori che sono davanti alla televisione dunque adesso bisogna impanarle per bene quindi da una parte uova mettiamone già due e dall'altra parte il pan grattato dunque sigilliamo bene bene le nostre carrozze perché sennò facciamo un disastro bene anche sui lati soprattutto ok vediamo se l'olio è a temperatura va bene questa la lascio da sola perché l'olio non è ancora troppo caldo quindi se metto delle altre melanzane mi si raffredda ancora di più adesso possiamo metterne due tre giriamo una volta l'importante è che poi la mozzarella si sciolga ma non incomincia a uscire fuori se vedete che incomincia a scoppiettare l'olio tiratele via velocissime che belle buone poi ma le melanzane fritte vogliamo parlarle anche semplicemente la melanzana uova pan grattato pam fritte anche se la mia mamma mi ha insegnato a farle impanate sempre uovo pan grattato ma passate al forno con un goccio d'olio tipo funzione grillo ventilato ma sapete che non sembrano fritte ma sono mille volte più leggere ci siamo un pochino di sale subito finché sono belle calde ancora un po' di sale anche per loro così l'impiattamento non è che sia niente di artistico queste non toccano il piatto praticamente perché vengono mangiate tutte oppure come dicevano le mie zie simpaticissime non passano sicuramente la notte qualcuno se le magna va bene pronte da portare davanti alla televisione con qualche tovagliolino di carta neanche il piatto ci vuole ho messo a scaldare l'olio ho affettato le melanzane sottili le ho farcite con mozzarella e prosciutto oppure con mozzarella e acciughe ho passato i sandwich di melanzana prima nell'uovo poi nel pangrattato e li ho fritti da rosicchiare davanti alla televisione facciamo delle belle ali di pollo che sono anche molto economiche e molto golose le facciamo in due modi diversi uno è il modo secondo me più goloso e sono proprio quelle alette glassate un po' con una salsina dolcina che io mangio anche spesso nei ristoranti messicani le altre sono un'alternativa le ali di pollo fritte molto più leggere molto più veloci da fare ma altrettanto buone partiamo con la glassa quindi facciamo una specie di marinata con la soia devo prendere questo per misurare perché ci vogliono 100 ml di soia ok io la verso già direttamente nella teglia del forno dove poi cuocerò il resto poi ci vuole un bel cucchiaio di senape altra volta io ci ho messo proprio la senape piccante stava molto bene poi ci vuole il miele qui poi andate a gusto cioè chi ne mette un cucchiaio solo io ne metto anche tre cucchiai un po' piccoli così insomma deve stemperare un po' il gusto molto salato della soia poi qualche spicchietto d'aglio che io schiaccio ragazzi mi hanno detto che devo togliermi il braccialetto perché fa rumore non voglio adesso me lo sono messo sull'altra parte vediamo una mescolata poi cosa aggiungiamo uno spruzzo di salsa worcester peperoncino vedete voi se metterlo o meno se avete la senape piccante magari non lo mettete io ne metto proprio appena un'idea poi sale anche qui pochissimo allora prendiamo le nostre alette e le immergiamo nella salsina devono rimanere a marinare un po' se avete tempo se non avete tempo gli date solo una mescolata come faccio io adesso così noi le lasciamo in infusione il tempo in cui faccio le altre ali di pollo quelle semifritte ma invece fatte al forno che sono veramente molto semplici perché basta prendere il pangrattato e impanare le nostre alette senza neanche l'olio così perché comunque la pelle è già bella appiccicaticcia l'importante è che vedete proprio l'impanatura resti non sia solo un'idea così queste passate al forno ventilato con un goccino d'olio appena appena sono davvero golose e anche leggere qui ci metto un po' di sale queste dicevamo bisognerà lasciarle marinare un po' ma noi le facciamo partire subito aggiungo solo due rametti di rosmarino metto in forno dicevo ventilato 180 200 gradi diciamo una mezz'ora l'importante questi qua soprattutto ma anche gli altri semplicemente impanati rigirarli ogni 10 minuti un quarto d'ora in modo che dorino uniformemente su tutti i lati c'è ancora il profumo delle cheesecake dentro al forno ah qui un po' d'olio però accidenti scusate me ne stavo dimenticando non tanto però un goccino ok queste le lasciamo andare cosa si beve a Sanremo ciao Alessandro bene ho le mani ghiacciate e io ho le mani sporche di qua grattato allora oggi prepariamo uno dei aperitivi che va la maggiore negli ultimi anni che è lo spritz io bevo sempre allora ti ho portato un aperitivo poco alcolico e l'arancia e l'ho fatto qua dentro sì perché oggi ho portato una caraffa da un litro così si può bere tutti quanti assieme dai cari ah con i cammuccioli bellissimo mi piace bella bella idea per Sanremo ottima ok iniziamo vai prendo il sels e ne metto più o meno un 15 cl ok questa la devo imparare poi io metto prima il sels ma il sels io dove lo trovo guarda se non hai il sels va bene anche l'acqua frizzante ah ok va benissimo riempiamo la caraffa di ghiaccio voglio troppo fare ci metterò un po' a metterlo il ghiaccio eh sì la paletta è piccola e la caraffa è grande poi metteremo comunque se vuoi te lo inclino e tu lo versi no aspetta voglio più veloce no no io c'ho tutto il tempo tanto il mio pollo deve cuocere mezz'ora voglia spero di finire prima ancora un po' ok poi versiamo 15 cl dell'aperitivo poco alcolico all'arancia ti ricordi? sì bam bam quindi tre volte cinque ok o posso anche contare fino a 15 oppure sì vai conta fino a 15 perché ci sta bene uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci 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 basta taglia perfetto poi prendiamo il nostro spumante senza botto dai se no stavolta la mette si rompe qualcosa basta poi ormai è Natale Capodanno è passato ricordiamoci di avere lo spumante freddo sì giusto devi proprio puntare su di bene un po' duro sto tappo bene a lei dai porta fortuna vai vai meno male che deve essere freddo questo ci deve essere caldo e finiamo quanto? allora praticamente deve essere più o meno la stessa quantità dell'aperitivo eccetera qualche fetta per decorare di arancia e limone un po' di colore questo si può avere anche in tre in quattro eh sì eh con le cannucce lunghe esatto davanti alla televisione fantastico a vedere il festival però prima delle cannucce che adesso tu prendi gli do una girata mescolata infatti ma io posso anche metterci qualche cubetto di ghiaccio così com'è senza romperli no? sì anche purtroppo il ghiaccio che avevo io dovuto romperlo perché è un po' bruttino ah ah ok però anche il ghiaccio rosso va benissimo vai prego Benedetta forte poi le allerghiamo e ognuno prende la cannuccia che vuole io prendo io verde salute Benedetta ci vuole un po' di polmonia qua sì per tirare su per tirare su va bene ragazzi la puntata è finita buon festival io rimango qua e beviamo il dovere mi chiama mannaggia non me lo posso neanche portare in cucina questa cosa non lo vuoi? e come faccio? devo dare ragazzo dai lo diamo ai ragazzi va bene fatevi un grande aperitivo grazie ciao Benedetta grazie mille allora pollo che non è naturalmente ancora pronto perché ci volevano 40 minuti 30 minuti ma io vi faccio vedere quello che ho preparato in anticipo che è questo vedete qui piano piano lui sta andando tiriamo fuori prima quello glassato guardate che bello e poi quello semplicemente fritto adesso io sfido chiunque a dirmi che non è fritto dimmi se non sembra quelli che sono fritti in 10 litri d'olio e che sono grassissimi invece questo è semplicemente passato al forno allora vediamo un po' come impiattarlo di qui invece metto quelle semplicemente fatte al forno glassateli bene con la salsa mettiamo ops ancora un po' di rosmarino anche qui direi tovagliolini davanti alla televisione senza neanche le posate per la marinata ho mescolato la soia con la senape il miele l'aglio la salsa worcester il sale ci ho passato le alette di pollo e poi ho concluso con due rametti di rosmarino per le alette impanate ho passato la carne nel pan grattato per bene ho sistemato nella teglia e ho completato con un filo d'olio ho cotto entrambe le versioni in forno ventilato a 180 gradi per 40 minuti le trofie al pesto con le sogliole un altro tributo a Sanremo dopo la pubblicità bentornati nella mia cucina oggi abbiamo fatto il menù Sanremo e quindi anche la pasta veloce vuole essere un po' un tributo alla Liguria e al mare quindi facciamo una pasta che in particolare sono proprio le trofie al pesto e sogliole l'insieme del pesto con le sogliole che sono burrose saporite crea un sugo che è veramente veramente molto buono dunque partiamo col buttare le sogliole piccole queste sogliole cominciamo a lessare subito le trofie cuociono poco 5 minuti quindi andiamo in fretta prendiamo le nostre soglioline io qui rimetto il coperchio così appena un filo d'olio io prendo i filetti delle sogliole oceaniche che sono già sfilettati se poi volete proprio la sogliolina nostrana ancora meglio io ne metterei in 100-150 grammi qui abbiamo il pesto in un attimo la pasta è pronta piace molto ai bambini ed è piatto unico se volete soprattutto i bambini che magari sono un po' pigri che si stufano al terzo boccone così fate primo e secondo insieme questa è una ricetta che mi arriva dalla mia amica Giulia che ringrazio ma si mettiamole così non bisogna trattarle tanto bene queste sogliole bisogna un po' spezzettarle quindi alla fine ne ho messi 200 grammi secondo me ne ho messo un bel po' mettiamo un pizzico di sale anche qui si può sfumare o con il vino bianco oppure anche con un po' di vermouth basta che sia secco non sia dolciastro ecco vedete quando la sogliola è pronta incomincia a rompersi la sogliolina è pronta vedete come l'ho spezzettata tutta spengo e vediamo se sono pronte le trofie le trofie sono l'unica pasta che a Fabio non piace non so perché ha questa idiosincrasia per le trofie e io non le posso mai cucinare a casa che invece mi piacciono da pazzi sono cresciuta con le trofie ok le trofie sono pronte io volevo tenere un po' di acqua di cottura perché quando si tratta di pesto bisogna sempre un po' allungarlo con l'acqua scogliamo io le metto direttamente nel pentolino insieme alla sogliola comincio a dare una mescolata e poi mettiamo il pesto io ho preso un pesto pronto poi se voi volete farlo sarà ancora più buono ecco dicevo il pesto secondo me ha sempre bisogno di qualche cucchiaio di acqua di cottura beh secondo me è proprio pronta l'aspetto poi alla fine è quella di una semplice pasta al pesto ma quando la assaggiate sentirete la differenza prendo un piatto questa è anche una pasta talmente veloce che però essendo un po' originale può essere anche servita magari in una cena con degli amici perché comunque sentirete che è veramente molto buona ma si fa in quanti minuti 5 vedo un po' di basilico ancora un goccino d'olio appena 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 e voilà ho messo a cuocere le trofie ho rosolato i filetti di sogliole in padella con un filo d'olio spezzettandole un po' ho sfumato con il vermouth ho scolato la pasta l'ho condita con le sogliole ho aggiunto il pesto e l'acqua di cottura ed ecco il nostro menù per il festival di Sanremo da mangiare rigorosamente con le mani abbiamo la sardenara che è proprio di Sanremo il cheesecake mini da mangiare anche lì proprio davanti alla televisione queste melanzane in carrozza ripiene e poi le alette di pollo in due versioni una dolce e una invece semplicemente impanata io vi aspetto domani sempre alla stessa ora 12.25 sulla 7 e mi assaggio questi mini cheesecake perché sono buonissimi per fare l'olio al peperoncino in mezzo litro d'olio mettete 15 peperoncini rossi li lasciate in infusione una decina di giorni e poi filtrate per fare il pane dolce per fare i crostini di pane dolce prendete il pane secco lo ripassate in padella con un po' di burro poi lo spolverizzate con lo zucchero e la cannella si chiama pane per due